Sono tante le cose inespiegabili dalla vita. Una di queste è che piove sempre sulle persone che meritano il sole. Sai una cosa? Tutto ciò che l'uomo ha imparato dalla storia è che l'uomo dalle storie non ha imparato niente. Nonostante tutto sono ancora in piedi. Sei? Esiste un luogo dove l'amore ha perso. La bellezza si è spenta. Un luogo senza poesia né voce. Guidato da gente ammalata di odio. Esiste un luogo dove la vita non c'è. Dimenticato dal cielo. Escavato nel buio. Quel luogo si chiama guerra. Se ti piace Just Funny World mettici un like e iscriviti al canale. Grazie mille. Povera povera quella gente che fa del male e crede che non ne pagherà mai le conseguenze. la generosità è un dono che appartiene all'anima. Non dipende da ciò che hai ma da ciò che sei. Sai? Siamo fatti di carne ma costretti a vivere come se fossimo di ferro. Io sono felice di quello che sono. Non sono perfetta ma sono onesta, generosa e umile. Non cerco di essere quello che non sono e non fingo di essere diversa per far felici gli altri. Io sono me stessa. Abbiamo tre vite. Quella pubblica, quella privata e quella che si inventano per noi le persone pettevole. Sai? L'uomo è l'unico animale che gode e vedono soffrire i suoi simili. È vero, tutto passa, ma tu non sei più la stessa. Quanti non fanno niente che invece facevano. Eccomi. certe lezioni di vita ti cambiano ti fanno riflettere parecchio su quello che vale la pena ti portare sempre con noi. E' quello che bisogna lasciar perdere lungo la strada. Sulla terra c'è gente che ha tutto e non divide niente. Poi c'è chi non ha niente e divide veramente tutto, soprattutto l'amore. Quando morirò, per favore non piangete per me. Cercatene uno non amato, uno abbandonato, uno malato, uno per strada e dateli una casa a posto mio. Posso dire una cosa? Quando raccontate le storie, non saltate le parti dove avete fatto schifo. Le foto più belle le ho scattate con gli occhi e salvate nel cuore. Chi sono i veri amici? Sono quelli che si ricordano di te anche quando non li servi. Quando ami la solitudine è perché hai pagato troppo cara la compagna. Mentre loro continuano a parlare male di te, tu esplendi e non c'è cosa più bella. Sai? Alcuni posti, alcune date, alcuni momenti non si dimenticano mai. Puoi avere tutte le ricchezze del mondo. Ma se non hai sincerità, umiltà e onestà, non hai niente. Perché ogni tanto si ha bisogno di essere cercati e non di cercare sempre. La vita ci insegna tante cose. Una di queste è che le persone non sono come sembrano. Nessuno è più odiato di chi dice la verità. Ti posso dire una cosa? Ogni tanto pensa anche al tuo bene. La famiglia non deve essere perfetta. Deve essere unita. Qualsiasi cosa accada. Se hai sopportato tanto e lasciato molto, hai sbagliato anche tu. L'erba cattiva non muore mai e quella buona continua ad essere calpestata. Chi ride dei dispiacere altrui, prima o poi piangerà i suoi. La vita è una ruota che gira. Io sono responsabile di ciò che scrivo, non di quello che capisci. Le case felici sono costruite con mattoni di pazienza. Sai, c'è un giudice chiamato tempo che mette ognuno al proprio posto. Sai, ognuno dipinge il quadro della propria vita con i colori delle proprie scelte. Grazie mille, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Nella vita bastano tre cose. L'umiltà di non sentirsi superiori a nessuno. Il coraggio di affrontare ogni situazione. La saggezza di tacere davanti alla stupidità della gente. Sai, un giorno qualcuno ti distruggerà talmente tanto che poi sarai indistruttibile. Avere dei buoni vicini di casa è come avere una casa più grande. La gentilezza è una forma di eleganza. La migliore che io conosca. E c'è ancora gente che la confonde con la devolessa. Grazie mille per restare con Just Vanewal. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.